Ciao ragazze, ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Benvenuti o per ritornati su questo canale, più precisamente in questo nuovo video. Prima di cominciare però, mi raccomando, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina, fatela diventare tutta tutta nera, così tutte le volte che caricherò un nuovo video verrete subito avvisate. Mettete mi piace e commentate perché io alla sera amo tantissimo leggere tutti e tutti i vostri commenti. Quando posso rispondo, altrimenti lascio sempre il codicino. Allora, stamattina sono in casa tranquilla, i gemellini stanno facendo la nana, infatti non è una smr, ma parlo piano perché appunto stanno dormendo, mentre i due bimbi più grandi sono andati con il nonno a buttare il verde perché prima stavano pulendo il giardino. Stamattina mi è arrivato un pacco, io l'ho già aperto perché sono curiosissima, chi mi segue sempre lo saprà, e quindi adesso vi faccio vedere tutto quello che mi è arrivato. Allora, è un massaggiatore per il viso, con first marking, spero di aver pronunciato giusto, ma sicuramente no. Chi mi segue sempre saprà che io non amo molto creme, cremine o tutte queste cose qui, insomma perché sono piene di sostanze chimiche e la pelle non è la pelle, no. La pelle è un organo, assorbe tutto quello che noi ci mettiamo in faccia, creme, cremine, creme solari, make-up, quindi non amo tantissimo questa roba. E quando mi mandano queste cose io sono sempre felicissima al settimo cielo perché basta veramente pochissimo prodotto e questi aggeggini, questi massaggiatori vanno proprio a stimolare la pelle, i muscoli, senza bisogno per forza di andare a mettere delle sostanze chimiche. Quindi il muscolo, la pelle si rigenera senza schifezze, quindi io amo tantissimo i massaggiatori per il viso. Questo è super brevettato e certificato, lo farò vedere comunque nei vari vlog, spero anche che man mano nei vari video poi si vada a notare la differenza della pelle. Insomma, spero di andare a trovare beneficio con questo cosino perché è mia attenzione andarlo a usare molto molto spesso. E vabbè, comunque vi faccio vedere e lo apriamo. Allora, comunque da qualche parte vi metto i link, se non li vedete qui andate negli altri social, sicuramente da qualche parte i link li troverete. Allora, apriamo. Funziona anche, si può collegare anche a un'app, ok? Si può collegare anche a un'app per monitorare meglio le vostre sedute, insomma, di bellezza. Se riesco ad aprirlo perché è veramente incastrato super bene. Comunque, qui, vedete, funziona col RF, EMS, LED e massaggia anche il viso. Vediamo qui dietro, ci sono tutti i dati tecnici. Ok. Adesso devo solo riuscire ad aprirlo. Ok. Il packaging è veramente molto molto carino. E il massaggiatore è questo. E ho scelto questo colore neutro basic. Il grigiolino. È morbidissimo. Veramente super morbido. E setoso. Cioè, ti viene voglia di aggrezzarlo. Qui abbiamo i tasti, massaggio, RF, LED, EMS, più. E il tasto di accensione. Vediamo se è già carico. No. Questo va con la corrente. Cioè, voi non potete staccarlo dalla corrente, ma deve rimanere attaccato alla corrente. Quindi poi... Vediamo. Qui sotto cosa c'è? Allora... Qui abbiamo il libricino con tutte le istruzioni. Fatto così. Vedete? Un po' di cartoncini. Qui abbiamo appunto il libretto con tutte le istruzioni in tutte le lingue. E qui abbiamo il filo per, appunto, il funzionamento. Ok. Però vedete? Ha una presa che da noi non c'è. Adesso mi spiego perché mi hanno mandato anche questo. oltre alla macchinetta, al massaggiatore. Vedete? Con tutte le prese, insomma. Quindi, ve lo potete portare anche in viaggio. Ve lo mettete in borsetta. Andate in Giappone? Avete la presa. Andate in America? Avete la presa. Quindi, molto, molto comodo. Ok. Presa italiana. Quindi, andiamo subito a incastrarlo. Ecco qua. Perfetto. Così, poi lo andiamo a provare. Quindi, questo via. Questo via. Questo qui. Ok. Colleghiamolo. Così. Perfetto. E oltre all'adattatore e al massaggiatore, mi hanno inviato anche questi, credo, sieri. Sono uguali. Ok. Due sieri. E andiamo lì ad aprire. Da usare, appunto, in combo con il massaggiatore. Non vedo l'ora di andarlo ad utilizzare quotidianamente. perché diciamo che io non sono più giovane. Cioè, giovanissima. Sono giovane. Non giovanissima. Quindi, insomma, un aiutino ci sta, ecco. Non credo tanto nel beneficio delle creme perché, più che altro, è marketing. Ok. E poi, discorso sostanze chimiche. Quindi, insomma, non mi piacciono tantissimo. Però, vabbè. Il packaging, devo dire, è veramente carino. Carino, carino. al contagucce. Ok. Perfetto. Così il prodotto, comunque, non si va a consumare. anche se io vorrei andarlo a utilizzare senza roba. Cioè, solo come massaggio. Così. Vediamo, insomma. L'altro non lo sto ad aprire perché sono uguali. Direi di spostarci in bagno per provarlo. Chi di te? Eccoci in bagno pronti cade il telefono pronti per provarlo allora in diretta attaccato vedete si è accesa questa lucina subito appena l'ho attaccato alla corrente accendiamo aiuto è già in funzione sta facendo tutto vedete led rf mass massaggio adesso prendo la scossa no fa impressione fa un po' impressione questo cos'è vediamo ah l'intensità così devo leggermi il manuale delle istruzioni allora così fa tutto e potete aumentare l'intensità se non calate e se rischiacciate questo fa solo rf e led e potete sempre comunque andare a aumentare l'intensità ok chissà se avrò dei miglioramenti ma comunque noi lo proviamo seguitemi mi raccomando iscrivetevi e ditemi effettivamente se nei prossimi video se si noterà a livello visivo un miglioramento dell'epidermide insomma della pelle io sento la pelle più calda non so se bisogna fare dei movimenti particolari io vado un po' a caso sento la pelle calda sì se lo tenete così sentite il calore che aumenta così che fa tutto mi dà un po' fastidio mi sento l'osso della mandibola che no così non ce la faccio usarlo sono sincera mi dà troppo fastidio così va bene mi sa tanto che io lo userò così perché cioè vibro tutta no non ce la faccio è della potenza massima comunque interessante veramente molto molto interessante soprattutto perché è brevettato quindi e ha le certificazioni quindi sono sono molto curiosa di andarlo ad utilizzare bene come bene ok dai noi ci vediamo in un prossimo video vi mando un bacione e iscriviti ciao